O tu adesso mi dici qualcosa che mi dimostri che non hai un'età sentimentale di 14 anni, oppure io ti assicuro che questa è l'ultima volta che mi vedi. No! Sei capace di stare con una donna per più di 5 minuti e se devi uscire con una ragazza fai la roulette russa sulla rubrica del telefonino. Se c'è uno che i locali li conosce tutti è lui. Ogni sera è uno diverso, no? E ogni sera una diversa! Eh va bene insomma non bisogna parlare un po' a conoscerci. Dai ci conosciamo dopo! Ma scusa la tua fidanzata? Fidanzata di Pasetti? Ma figuriamoci! Ma a te chi te l'ha detto che sono solo? Ma c'è una persona. E come si chiama? Agnese? No mi chiamo Michela. Sei sicura? Agnese non esiste, sei l'ha inventata. Io tra l'altro abito qua vicino, saliamo, ci beviamo una cosa e poi... E poi? Non possiamo. Non possiamo. Domani parto. E ci vediamo quando torni, no? Non stai via tanto? Beh, pensavo per sempre. Siamo a New York. Sulla carta è la storia d'amore più bella di tutti i tempi. Siamo sicuri? Quattro giorni di fidanzamento. Non saranno un po' troppi? No, io devo chiamare in ufficio. Che cazzo mi invento ancora? Beh, potresti dire che ti sei innamorato e che hai trovato la donna della tua vita. No, dai, mi serve una scusa credibile, dai. No, dai, mi serve una scusa credibile, dai.